Oggi sopralluogo Siamo a marzo ragazzi Ci rivediamo tra un paio di mesi Musica 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 Mi direte giustamente Ma gli ombrelli alle telecamere? Ragazzi non solo la pioggia fa male alle telecamere Anche il troppo caldo Musica 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 Se conoscete qualcosa di più buono Dell'ardo di colonnata Ditenele Musica Musica Ma quindi verrà una cosa figa? Non lo so Non lo so E' un treno 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 E' un treno